we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi mamma mia abbiamo delle novità veramente super interessanti che non riesco a capire perché non vengono pubblicizzate direttamente sui canali ufficiali di epi games parliamo ragazzi di vbux in regalo e non vi sto prendendo in giro 20.000 posti disponibili per vincere da un sacco di vbux a pochi vbux vi faccio vedere tutto fra pochissimo parliamo anche di alcune cose della season 4 e di due nuove modalità che sono molto molto interessanti prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e non può che essere ovviamente il nuovo bundle uscito nelle tarde ore del pomeriggio di ieri correggetemi se sbaglio ragazzi ma credo che questa sia la prima season in assoluto dove abbiamo due bundle a costo di euro presenti nello shop vi ricordo il summer legend pack arrivato il mese scorso e adesso c'è il dynamo pack un bundle veramente molto carino una skin con due stili personalizzati backpack con altrettanti stili e soprattutto 1500 v bucks questa cosa ragazzi è davvero interessante infatti il bundle costa solo 11 e 99 se ci pensate alla fine è un buon rientro con 1500 v bucks io vi consiglio di farci veramente un pensiero anche perché la skin è molto carina e anche un balletto dedicato due secondi ve lo faccio vedere ed eccolo qua molto molto carino ragazzi molto vintage quindi fateci veramente un pensierino perché il bundle secondo me merita e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ed è una notizia davvero molto importante ma da prendere con le pinze io quando vi faccio vedere certe notizie ragazzi le prendo solo se chi le dice è affidabile come lo è stato nel passato perché state vedendo uno sfondo di marvel perché si vocifera che la season 4 sia molto molto vicina all'universo marvel non sappiamo se il tema proprio della season sia l'universo marvel ma da quanto si dice in giro leggiamo direttamente da un una persona sudamericana la tematica è a temporale a quattro ve lo dico direttamente in italiano il tema della quarta stagione sarà marvel torre il suo mantello sarebbero cosmetici qua c'è scritto la rullotti in realtà è il trailer inizierebbe con una ragazza messa all'angolo in un vicolo da persone armate che verrà salvata ci sono delle informazioni ragazzi molto dettagliate che la fanno un attimo pensare che chi ha scritto queste righe sappia davvero di quello che sta parlando ovviamente non c'è nulla di ufficiale quindi è semplicemente un un leaks però potrebbe anche essere dato che sappiamo arriverà nella season 4 oramai non può più arrivare in questa stagione il comic book quel libro che quando aprirete la lobby si vedrà in basso a destra mi viene però in mente che noi lo abbiamo visto in un video leaks nella parte in basso di questa season ma non riesco a capire quando potrebbe essere inserito dato che oramai mancano una settimana all'arrivo della season 4 boh staremo a vedere c'è da dire che questo giro epigames non ci sta facendo capire proprio nulla andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo invece è l'argomento di cui vi voglio parlare e che merita assolutamente la vostra attenzione intanto vi dico subito una cosa se per caso sotto questo video non c'è il mio post è pinnato in alto con il link alla pagina di epigames venite di là su twitch a dirmelo perché magari mi sono dimenticato il video sale mentre io sono in live su twitch quindi fate un salto di la meteo su der metti il link che non lo sappiamo allora sotto troverete il link in un commento pinnato e come vedete fortnite community battles boot camp che cavolo è praticamente è una serie di sfide che molto veloce perché è iniziata a ieri e terminerà il 23 agosto possono partecipare tutti non avete bisogno del 2 fa attivato non avete bisogno del creator non avete bisogno di niente di particolare l'importante è cliccare nel link sotto joinare con il vostro account e c'è scritto che vi verranno proposte delle sfide in game si suddivide in quattro grandi sezioni le sfide 1 le sfide 2 le sfide 3 e la gran finale la cosa che ci interessa ovviamente è la gran finale perché chi arriva fino lì e non dovrebbe essere così difficile in base a come compierà le sfide che gli verranno chieste riceverà un punteggio questo punteggio verrà inserito in una classifica e come vi anticipavo i primi 20.000 giocatori riceveranno dei v bucks sono scioccato anche io ragazzi non sto scherzando però io ho controllato il sito rimanda tutto ad ep games è una cosa che c'è l'unica cosa che un po mi è hanno detto che sembra che l'italia non si è inserita in questa cosa del bootcamp e voi provateci lo stesso ragazzi alla peggio non succede niente non è che vi fa un casino però come vedete qua rewards for the best players dal primo al quinto si pigliano da 1500 a 2500 v bucks ed ecco proprio qua l'elenco di tutti i premi il primo ne prende 2005 il secondo 2002 50 2000 1750 1500 1250 il sesto dal settimo al venticinquesimo mille v bucks dal 26esimo al 100 800 dal 101 al 500 500 dal 501 al 5300 fino al 10.000 250 fino al 20.200 tra l'altro loro dicono tutti i partecipanti che sono riusciti a terminare la final challenge riceveranno in premio il kabam lama è lo spray quello dove c'è il lama che spararombituonanti dal avete capito praticamente ce l'ho io poi magari me lo chiedete ve lo faccio vedere in game quindi una cosa davvero incredibile fantastica dateci un'occhiata iscrivetevi e perché no magari qualche v bucks ve lo portate a casa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi perché questa invece è un'immagine tanto semplice quanto importante è il primo leaks ufficiale della season 4 perché ne sono così sicuro perché fa parte di una delle due nuove ltm che conosciamo arrivare nella prossima stagione e sarà la rally royale si potrà giocare in solo in duo in squad colleziona i ticket dorati quelli che state vedendo lì trovati nei sappli drop speciali quindi drop speciali per sbloccare il traguardo the finish line solo ons non ricordo cosa voglia dire fin finché tu avrai quando che però è tu avrai abbastanza ticket vai verso la linea finale i ticket sono condivisi se li giochi in duo o in scuola il che vuol dire che se il tuo compagno di squadra ha preso il ticket e dovete raggiungere un numero x di ticket il tuo e il suo si addizionano e ci permettono appunto di raggiungere il numero tra l'altro c'è un'altra immagine che è sempre ufficiale ed è sempre un nuovo lx della season 4 è questa stellina che farà parte della seconda ltm che è stata trovata è un ltm molto interessante questa immagine ce la spiega perfettamente questa è l'immagine che abbiamo già visto nel trailer dei veicoli e si chiamerà nitrogen si giocherà in solo in duo in trio o in squad vinci le stelle portando passeggeri nel taxi stelle bonus possono trovare possono essere trovate in tutta la mappa le eliminazioni Causerà al tuo team la perdita di tutte le stelle il primo che Arriva al traguardo di stelle che deve collezionare vince se vieni noccato risponerà in un nuovo taxi quindi ragazzi è una cosa interessante di questa modalità è che in giro per questa mappa troverete dei bot che vi daranno delle abilità speciali nella guida del vostro veicolo tipo l'astro l'aeronaut landing tricks quindi faremo face faremo dei tricks in atterraggio con la macchina non ne ho assolutamente idea capital team leader se lo carichiamo il bonus potremmo Hittare i giocatori con la macchina e via via discorrendo insomma ragazzi oggi le news erano davvero molto interessanti Io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su non dimenticatevelo E non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao